Il calendario vi aveva riservato subito un match difficile per vedere di che passo era fatta questa Rari mi sembra che la risposta sia stata molto importante sia sul piano dell'impegno agonistico sia sul piano delle qualità tecniche perché avete realizzato una serie di goal di alta fattura Beh sì possiamo dire prova superata, questo sicuramente sapevamo che il Pescara è una delle pretendenti principe ad arrivare comunque tra le prime posizioni non voglio parlare di griglia playoff perché chiaramente è ancora prestissimo e non si può parlare certamente di match d'alta classifica perché ancora siamo alla prima giornata, però sicuramente noi che li conoscevamo bene perché comunque sono più o meno lo stesso gruppo che due anni fa hanno disperato i playoff contro l'Avion che fondamentalmente dalla quale diciamo ereditiamo maggior parte dei giocatori sappiamo di che passo erano fatti, hanno qualche modifica nell'assetto, nella Rosa, insomma nei primi sette però il gruppo rimane quello e ci hanno messo parecchio in difficoltà Poi per quanto riguarda noi diciamo che sapevamo di dover partire forte forse non l'abbiamo fatto nei primi due o tre tempi però alla fine il cuore è servito e la vittoria è importante Rimangono negli occhi le immagini della chiusura della scorsa stagione drammatica con una finale di play out ai rigori, la rabbia ovviamente per aver dovuto giocare tutto all'ultimo momento però forse proprio aver toccato il fondo in quel momento è servito per dare un impulso alla Rari per provare poi a tornare a quelli che sono stati i fassi di un circolo storico Sì, durante la presentazione i fassi di un tempo sono stati richiamati più di una volta Come dici giustamente tu, l'anno scorso probabilmente è stata l'annata peggiore della storia della Rari Nantes Napoli Io ho portato la croce perché avevo la fascia da capitano l'anno scorso l'ho conservata con onore quest'anno Ti posso dire però che il gruppo anche in quell'occasione ha dimostrato di avere qualcosa in più sotto il profilo della personalità e quest'anno speriamo con molti amici in formazione di poter fare la stessa cosa Poi quel che verrà, verrà, insomma noi sappiamo di avere qualità per poter arrivare fino in fondo in una certa maniera Poi il campionato ci dirà quello che potremo fare realmente Ci sono stati alcuni momenti particolarmente importanti nella partita che avete vinto sabato Vi siete trovati a dover rimontare due gol contro una squadra molto solida con un portiere molto forte Tra l'altro, ovviamente queste sono partite che si vincono con la forza del gruppo C'è stata però poi un'eccellenza nel vostro gruppo che Stefano Mauro ha realizzato Si sapeva, è un giocatore anche lui sicuramente di categoria superiore come lo sono altri del gruppo dell'Avion a cui tu hai fatto cenno prima Ecco, è un giocatore che sicuramente può e deve fare la differenza al pari degli altri che tu hai nominato I vari cappuccio, scalzoni, insomma tutto il vecchio gruppo Avion Stefano lo conosco molto bene perché comunque l'ho visto crescere Diciamo da quando io ho iniziato a fare legge maniera al possibile, lui ancora era un ragazzino Però da subito ha dimostrato delle qualità importanti Anche il suo escursus degli anni passati con le altre squadre senior In questi momenti ha dimostrato comunque di essere un giocatore di livello Lo scorso anno con l'Avion, soprattutto nella seconda parte di stagione ha fatto la differenza Era un banco di prova importante però per lui perché rituffarsi nel campionato di Serie B non è assolutamente facile L'ha fatto nel migliore dei modi, penso che difficilmente potrà ripetere prestazioni del genere Io me lo auguro, però penso che da adesso in avanti lo guarderanno anche con occhio diverso le squadre avversarie E noi invece crediamo che Stefano Mauro farà tantissimi gol perché è un giocatore di grande classe Chiudiamo con una sorta di giochino, noi abbiamo proposto i sei gol, sei dei gol più belli erano davvero tanti Di questi sei ce n'era uno di Stefano Mauro a mio avviso molto bello dal punto di vista tecnico Ho giocato proprio da centro boa con una finta che ha mandato veramente al manicomio due avversari e il portiere Elios però il tuo allenatore ci ha richiamato, ha detto no, il gol più bello, più importante sicuramente è l'ultimo E dal punto di vista dell'importanza è sicuramente quello Però lo dico dal punto di vista tecnico se tu avessi dovuto scegliere tra questi due gol Quale avresti scelto? Ovviamente se non puoi andare contro l'allenatore ti capisco No, guarda, allora io per quanto riguarda il gol a cui facevi riferimento, quello dal palo Penso che sia stata una magia, la chiamerei magia ma per dire proprio che ha fatto una cosa Che difficilmente si vede in una partita di campionato, di serie B ma di alti livelli anche Ma soprattutto per il momento della partita perché è stato se non sbaglio il gol del Pariggio E in una situazione molto intricata ha dribblato l'intervento di un difensore Ma soprattutto la conclusione l'ha fatta quasi a palombella da un metro e mezzo Il che significa avere gli attributi Diciamo che da quella che era l'impressione, io ho visto il gol della panchina Qualsiasi palla toccava diventava oro E allora salutiamo, approfittiamo anche per salutare Mister Elios Ovviamente chiudiamo con un pronostico diciamo ma più che altro una prospettiva su quella che sarà la vostra prossima partita Altra beffa del calendario Giocate contro un'altra delle squadre annunciate come possibili protagonisti Reduce tra l'altro da una sconfitta un po' inattesa Anche se il San Mauro è una di quelle squadre che nuota tanto Sappiamo che Andrea è un allenatore che prepara molto bene i suoi E quindi per loro è già un po' una sorta di ultima spiaggia Serve la miglior Rarinantes quella che abbiamo visto in questo sabato Sì, la canottina di Lazio è sicuramente una delle altre squadre che possiamo comprendere tra quelle di testa insomma Non ho visto personalmente la partita col San Mauro Ma so che hanno interpretato magari non nel modo migliore l'inizio partita Poi in realtà anche con una brutalità sfavore sono rientrati E questo sta a testimonare il fatto che comunque hanno un gruppo forte che può fare bene in questo campionato Sabato giocheranno in casa al fuoritario Quindi credo che pronostici non se ne possano proprio fare Noi sappiamo che possiamo andare lì per dargli fastidio Però sulla carta sicuramente sono una squadra che in casa lascerà poco e niente a nessuno Allora in bocca al lupo a Davide e alla sua Rarinantes Se noi contiamo poi di vedere tanti gol magari anche qualcuno di Davide Perché no da proporre ai nostri amici? Sì, perché no? Perché no? Io da capitano mi sento di dire di dare sempre il massimo Il cento per cento Forse sabato non è stata la mia migliore prestazione Ma sotto il profilo individuale conta poco Sinceramente quando la squadra vince è sempre meglio Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti